Diego Zandel, benvenuto nel Posto delle Parole. Grazie, buonasera a voi. Eredità colpevole, il suo libro che stiamo per raccontare qui nel nostro piccolo Posto delle Parole, libro pubblicato da Voland, Diego Zandel, figlio di Esuli Fiumani, è nato nel campo profughi di Servigliano nel 1948, ha all'inizio una ventina di romanzi. Direi, Diego Zandel, di partire proprio da questo. Lei ha scritto la risvolta di copertina che nasce nel campo profughi di Servigliano. Ecco, ci vuole raccontare di questa esperienza? Dunque, i miei genitori fuggirono da Fiume nel luglio del 1947, cioè dopo il Trattato di Pace di Parigi che assegnava la città alla Jugosaria. Fuggirono e arrivarono a Udine, mandati prima al campo profughi di Udine, e poi da lì smestati in uno dei 109 campi profughi che furono allestiti all'epoca per accogliere gli Esuli Fiumani, gli Istriani e Dalmati che venivano già dell'Adriatico. Fu scelto Servigliano per i miei genitori, che era un ex campo di concentramento costruito nel 1915 proprio per la prima guerra mondiale e quindi dopo la prima guerra mondiale è servito come campo di concentramento per i depositori del fascismo e poi è stato per tre anni campo di concentramento degli inglesi e degli americani fino al 1943 e dopodiché nel 1945 è diventato campo profughi, prima generico di quelli che scappavano dalla Jugoslavia e nel caso gli Ustasci ai Croati, quelli che erano gli oppositori anticomunisti, eccetera. E poi dopo gli Esuli erano gli estrofiumani, quindi completamente diversi, di altra lingua, altra cultura, mentre da allora, insomma, da lì fino al 55, dal 47 al 55 furono solo gli istiani fiumani dalmati di matrice italiana a venire e tra loro c'erano tutti, c'erano anche chi come mio padre aveva fatto la guerra partigiana, aveva combattuto nella ventesima divisione della quarta armata di Tito, però avvicinandosi poi a Trieste, nell'Istia, dove combattevano prima, combattevano in Lica, si rese conto che cercavano di sostanzialmente il nemico via via che salivano, non erano più i nazifascisti, ma erano gli italiani che non volevano, i partigiani italiani che non volevano essere annessi dalla Jugoslavia, per cui pensi che quando arrivarono a Trieste, mio padre arrivò a Trieste con la quarta armata, in quei 40 giorni di occupazione jugoslava sparirono 2500 persone, tra cui moltissimi partigiani che avevano combattuto contro i nazifascisti, non certo per dare Trieste, fiume di Istria, alla Jugoslavia, così mio padre disertò e da quel momento fu arrestato in quanto disertore e poi dopo, quando ho avuto la possibilità di essere uscito dal carcere, ovviamente è stato, si è sposato velocemente con mia madre nel giro di un mese dopo il matrimonio, due mesi sono scappati, ecco. Io ho vissuto lì alcuni mesi e poi dopo sono venuto a Roma, un altro capogro fu chiamato Villaggio Giuliano Darmat. Comunque è una notizia di quest'anno, il comune di Servigliano mi ha dato la cittadinanza onoraria, perché sul Servigliano ho scritto diversi libri o comunque ne ho raccontato, ho raccontato la vita nel campo profi e ne parlo anche in quest'ultimo romanzo, appunto, Eredità colpevole. Ma io vorrei chiedere, Diego Zandel, ma lei che tanto ha raccontato questa storia, queste pagine di storia, lei che le ha vissute, no? Nella sua famiglia. Ma io le faccio una domanda banale, forse, perché si è vissuto questa cosa anche recentemente, in questa cosiddetta riscrittura della storia, ma perché è così difficile raccontare queste pagine di storia? Ma io non riesco ancora a capire come non sia possibile dopo 80 anni o dopo 80 anni, non un anno, dagli eventi, fare un po' i conti con noi stessi, no? Cioè, dimenticare le polemiche che ci sono, per esempio, su questa pagina di storia, che io reputo una pagina di storia nazionale, in quanto le terre, l'Istria, il fiume e la Dalmazia sono state cedute, in quanto la guerra è stata persa da tutti gli italiani. E l'esercito italiano era composto non da fantasmi, ma da gente che veniva da Bari, da Palermo, da Roma, da Milano, dalla Toscana, da tutti questi paesi. Però, poi, alla fine, quando c'è stato il momento di pagare quello che anche l'esercito fascista ha combinato nella provincia di Ljubljana, con la famosa provincia di Ljubljana, con il campo di concentramento di pago, di Arbe, scusi, quello che hanno fatto nel sud del regno della Jugoslavia, eccetera, sono stati gli estiani fiumani d'armati, non si vuole riconoscere questo. E lì c'erano, come dimostra la storia di mio padre, ma di tanti altri, erano gente che avevano combattuto contro i nati fascisti. Mentre qui c'è la polemica che noi che siamo andati via, siamo tutti fascisti perché siamo andati via da un paese socialista. Non è così. C'erano altri motivi, era proprio un aspetto, chiamerei, la parte nazionalista del comunismo, la nazionale comunismo. Volevano cacciare gli italiani perché volevano l'annessione di quelle terre e, siccome l'inizio, il fiume, la maggioranza era italiana, disturbava ovviamente nei confronti del consenso internazionale che ci fossero troppi italiani. Quindi hanno cercato in tutte le maniere di mandare via. Il romanzo Eridità colpevole parte proprio da questo dettaglio. Il 3 maggio del 1945 gli Jugoslavi entrarono a fiume, occuparono la città e la prima cosa che fecero fu quella di andare a uccidere tre capi antifascisti, cioè i capi autonomisti, che si erano già opposti all'annunzio, all'annessione di fiume all'Italia e non volevano, volevano la città-stato, fiume una città libera e indipendente e si opponevano all'annessione delle Jugoslavi, lo stesso motivo per cui si erano opposti a quella italiana. Però gli Jugoslavi, al modo di intimorire tutta la cittadinanza, siccome gli autonomisti avevano molta influenza nei confronti della popolazione, la prima cosa che fecero era andare nelle loro case ed ucciscono. Ci fu un processo dal 1997 al 2004 nei suoi vari gradi e a quel processo mi sono liberamente ispirato per creare un romanzo che facendo i conti con quegli episodi, con quella storia, crei anche un motivo di riflessione su questi aspetti. Non a caso il romanzo è uscito il 10 febbraio, il giorno del ricordo. Ma c'è un'altra coincidenza, è uscito il giorno del ricordo però questo romanzo di Diego Zander, lei lo ha terminato nella prima stesura, è bella questa coincidenza, il 3 maggio 2019, non anniversario della morte di suo padre e ottimo anniversario di quello di sua madre, profughi da fiume. Sì, e poi per fatti è accaduto il 3 maggio del 1945, è stata una combinazione che io non mi ero neanche reso conto e me l'ha fatto presente una setrice a Milano quando abbiamo presentato il romanzo al Book Pride, mi dice ma questo 3 maggio, infatti io non mi ero reso neanche conto che avevo finito il romanzo della prima stesura del 3 maggio, l'anniversario dei miei genitori a cui ho dedicato il libro, che corrispondeva anche ai fatti che io ho sostanzialmente ricordato e analizzato nel mio romanzo, anche se il romanzo adesso l'aspetto politico è storico, è importante, però il romanzo vale la pena ricordarlo. Segue la sua strada ovviamente, segue la sua strada e a proposito di questo romanzo. Comincia dopo il processo, il romanzo comincia dopo la fine del processo. Che cosa ci dice l'immagine di copertina Diego Zander? L'immagine di copertina raccolta praticamente quello che il lettore scoprirà all'ultima pagina. quindi lasciamo punti di sostenzione, ma quanto c'è anche di suo in questa storia Guido Zander, perché il protagonista di questa storia, quello che deve per così dire sbrogliare questa matassa complicatissima, si chiama Guido Lennatz. Eh sì, è il palindromo del mio cognome. Esattamente, è il palindromo del suo cognome. Sì, beh, gli ho dato la mia biografia, ovviamente non i pericoli che lui ha corso facendo le indagini, perché lo posso dire, insomma il romanzo comincia con l'omicidio del giudice che ha deciso… Luigi Laspira. Sì, Luigi Laspira, la non colpevolizzazione, la non colpa, diciamo sì, la colpa del reato di omicidio continuato aggravato, però la non condannabilità in quanto il fiume ormai non era più un territorio italiano e quindi il difetto di giurisdizione per cui viene assolto dal tribunale italiano, dice caso mai ci saranno i tribunali croati, l'attuale tribunale croati che potrà fare una condanna eccetera. Noi il tribunale italiano non può. E allora il romanzo comincia con l'omicidio del giudice che era amico del giornalista Lennatz, giornalista e scrittore Guido Lennatz, il quale comincia un'indagine per capire, per cercare di capire chi veramente è ucciso al di là di una dichiarazione da parte di un messaggio arrivato ai giornali in cui diceva che la falange nera, un'organizzazione di estrema destra, avesse ucciso il giudice, però non credeva molto a questo il giornalista e comincia un'indagine che ovviamente lo porterà a correre diversi pericoli, minacce di morte e altre cose ovviamente perché toccava tasti delicati. Ecco, quello io non l'ho passato, però l'autobiografia, la biografia, la biografia di Lennatz è molto simile a mia, nato al capoprofugli di Servigliano, figlio di Esufi Fiumani eccetera eccetera, col papà che è stato partigiano contito eccetera. Quindi ci sono ecco questi aspetti personali che li ho messi dentro il personaggio, anche per raccontare meglio la storia e anche quelli che sono i miei sentimenti, che sono di fastidio per la strumentalizzazione che l'estrema destra da una parte fa del giorno del ricordo, cioè dei nostri, delle foibe, dell'esodo e dall'altra il mio fastidio nei confronti della sinistra che tante volte giudica noi esuli fiumani istiani e dalmati come appartenenti all'estrema destra. In questo modo facendo il gioco proprio della strumentalizzazione che ne fa di noi l'estrema destra. Bisognerebbe prendere questa distanza storica che dico dopo 80 anni e andare nella realtà delle cose, cioè che lì c'è stata semplicemente una rivolta da parte, una opposizione da parte dei partigiani di quanti si opponevano alla annessione, che avevano combattuto contro i nazifascisti ma non per l'annessione delle loro terre, delle proprie terre alla Jugoslavia, cioè il fatto di vivere sotto un'altra bandiera, con un'altra lingua, un'altra cultura, non era accettato da molti. Quindi questo è un po' il… L'uccisione del giudice La Spina, l'uccisione a cui lei faceva riferimento poco fa rivendicato dalla falange nera con questo mandato a Repubblica, rivendicato questo atto criminale per il contributo che aveva dato La Spina all'assoluzione di un criminale di guerra titino che è vissuto realmente, Oscar Piskulic, ma lei lo ha rinominato Josip Stric, perché questo processo in realtà, vengono qui una sottolineatura tra le tante, in realtà non è nato questo processo per dare giustizia alle migliaia di infoibati ed esuli istriani, fiumani e dalmati, bensì solo per ragioni di vendetta personale da parte di una persona che c'è la morte con Stricic, tutto il resto è un appendice. Sì, questa era l'ipotesi di partenza del romanzo, poi ovviamente il romanzo scoprirà altre strade, altre verità, però al momento la cosa sembrava così, come era arrivata che il processo fosse la volontà di una persona, un uomo di potere che ce l'aveva a morte per motivi suoi, con in questo caso Josip Stricic e poi dopo la verità sarà un'altra, però voglio entrare nel merito del romanzo. La verità sarà un'altra, ma sarà… Però è liberamente ispirato, sicuramente, è liberamente ispirato al processo Oscar Piskulic che ebbe una sua eco notevole all'epoca, cioè dal 1997 al 2004, perché ci furono proteste del Ministero degli Esti di Croato, proteste del Ministero degli Esti di Sloveno, ci furono interrogazioni a destra e a sinistra al Parlamento italiano e ci furono molte manifestazioni anche clamorose davanti al Palazzo di Giustizia a Roma da parte dell'estrema destra. e quindi in qualche modo… Poi tra l'altro ci fu anche una cosa importante, che il primo processo di assise fu estromesso il PM che si diceva fosse troppo compromesso con la destra, quindi ci fu un secondo processo di assise e qui dove fu giudice all'atre Giancarlo De Cataldo, lo scrittore, l'autore di Romanzo Criminale, il quale poi appunto nel 2002 mi mandò la sentenza per sapere cosa ne pensavo io come scrittore e amico suo, diciamo, sulla sentenza. E da qui è nata anche l'idea del romanzo… Giancarlo De Cataldo è citato nella pagina dei ringraziamenti per il materiale relativo al processo Oscar Piscolic… Vorrei chiudere questa conversazione ritornando all'inizio alle due frasi in esergo, ne colgo una di Claudio Magris dallo straordinario libro Danubio. Chi ha dieci o quindici anni meno di me non può capire che l'esodo istriano dopo la seconda guerra mondiale per me fa parte del presente. Ora questa è una frase di una portata storica importante, perché se fa parte del presente vuol dire che, e torniamo a quella, non dico la contabilità con la storia, ma quel rapporto che noi dobbiamo per forza di cosa avere con la storia, altrimenti la storia rimane sempre un laccio, un lacciuolo da cui non possiamo liberarci. E poi sì, resta quasi un rapporto personale, mentre invece Magris per esempio con l'esodo Giudiano Dalmaton, quello che è successo, aveva un rapporto molto stretto perché sua moglie Marisa Maglieri era esule del fiume, visse il campo profughi nel silos di Trieste, lo racconta molto in Acqua Verde, Verde Acqua, il suo romanzo, racconta come il padre fuori stato dai titini, la famiglia venne a Trieste per salvarsi, poi dopo furono raggiunti, quindi viveva lui, l'ha vissuto in famiglia, però secondo me queste sono pagine di storia nazionale che molti non capiscono come un esule, in questo caso come è stato lui sposato a un esule, lo viva invece ancora in maniera molto presente dentro se stesso, poi quasi non venga preso in considerazione quello che c'è dietro un esodo, quello che c'è dietro i propri cari di essere uccisi, ma poi soprattutto ciò che rappresenta l'esodo, l'esodo significa lasciare la propria casa, lasciare i propri cari, mia madre ha lasciato i genitori perché erano troppo vecchi per esempio per muoversi, per andare ai campi profughi, quindi lasciare la casa, lasciare il lavoro, mia madre lavorava, mio padre lavorava in un edificio, mia madre lavorava in una dita di edile, di ristrutturazioni, di costruzioni di case e hanno lasciato tutto per poi stare dieci anni in un campo profughi, perché tanti ne abbiamo vissuti, tant'è vero che io quando nel 58 avevo dieci anni sono andato in una casa di 62, in una casa popolare che era stata costruita per gli esuli di 62 metri quadri, mi sembrava di entrare in una reggia perché fino a quel momento avevamo vissuto in un corridoio 11 famiglie separati solo da una porta, dove poi vivevamo noi familiari tutti insieme sostanzialmente, io avevo due cugine, la sorella di mio padre vedo, appunto con le figlie, mia nonna, mio padre e mia madre e poi è vero, io non ho mai sofferto di essere figlio unico, bastava che uscissi dalla porta, avevo tutti gli amici, i ragazzi della mia età, i bambini della mia età, quindi abbiamo vissuto così e i miei genitori, mentre per me il fatto che sono nato e cresciuto lì non ha fatto sentire la differenza solo quando sono arrivato nell'appartamentino di 62 metri quadri, ma per mia madre e mio padre che vivevano in una casa singola, in una villetta, in una villa, mia madre addirittura, Villa Laura si chiama ancora perché adesso c'è la mia cugina che ci vive lì, fare dieci anni di campo profughi per continuare a essere italiani mi pare insomma… Non poca cosa, fare dieci anni per continuare a essere italiani, vorrei ripetere ciò che lei ha detto perché è molto importante, prego. Sì sì, poi abbiamo visto che bastava resistere 40 anni perché poi intanto è durata la Jugoslavia, la Jugoslavia di Tito e dopodiché è arrivato il fine mondo, oggi ci sono per fortuna la comunità italiana che è rimasta, si ricongiunge con noi, noi ogni anno facciamo sia San Vito che il Santo Patrono di Fiume, facciamo un raduno di tutti i fiumani esuti rimasti, mentre prima c'era questa frontiera che praticamente ci impediva, se non individualmente, io andavo a trovare i miei nonni e i miei zii, però era un rapporto individuale, mentre oggi ci si incontra anche il raduno dei fiumani si intende proprio fatto dalla comunità italiana di fiume, fatto dall'associazione fiumani italiani nel mondo, cioè praticamente una cosa che durante il comunismo sarebbe stata proibita, ci avrebbero fucilato solo a superare il confine e arrivare lì insieme, invece adesso non solo, ma facciamo anche convegni che l'Aula consigliare del Comune di Fiume, che oggi si chiama Rieca, ci dà l'Aula consigliare per fare i convegni sugli autori, sugli scrittori fiumani di lingua italiana, perché i giovani per esempio studenti di oggi, ma anche quelli nati sotto la Jugoslavia, credevano che gli italiani fossero giunti a fiume con D'Annunzio, non sanno dell'esistenza, della presenza italiana da sempre, da sempre a fiume, con scrittori che hanno scritto in italiano molto prima che arrivasse D'Annunzio, che D'Annunzio non era poi c'è l'altro fiumano, ma gente, penso Enrico Morovis che è stato riscoperto da Sciascia, da Paolo Sant'Arcangeli, Franco Vigliani, con il romanzo La Frontiera, pubblicato da Sellerio, sono scrittori nati prima e che scrivevano in italiano i loro romanzi, quindi lo possiamo fare, parlare di questi scrittori, farli tradurre in croato, oggi possiamo anche farli tradurre in croato e farli conoscere, è giusto che i giovani di oggi, che vivono nella fiume di oggi, conoscono la storia della loro città, che non comincia nel 1945, ma esisteva anche da prima. Ed è una conoscenza della storia a livello reciproco, questo credo che sia un elemento molto molto importante. Diego Zander, prego. Tant'è vero che io che lavoro per una piccola casa editrice, mi sono premurato, grazie anche all'ambasciatore, che è un fiumano, adesso non è più lui ambasciatore, fiumano, che Daniel Grubisha, di madre italiana e padre croato, fiumano, nato a fiume, abbiamo fatto tradurre scrittori di fiume in italiano, quindi una conoscenza reciproca, li abbiamo presentati qui a Roma, quindi cerchiamo la cultura che abbia una funzione di dialogo interculturale, di scambio e di conoscenza reciproca per evitare tutto il male, tutto quello che i nazionalismi, prima quello fascista e poi quello comunista, perché era un nazionalismo, hanno diviso popolazioni che hanno vissuto, ho convissuto per tanti anni insieme, per esempio io sono di famiglia italo-croata, mia nonna, quella esula che è venuta, era croata, parlava il croato, io quel poco di croato che so, lo so da lei, mi sembra quindi che questo dialogo che abbiamo intrapreso, grazie alla fine dei totalitarismi in qualche modo, sia un'opportunità che ci dobbiamo dare per il futuro, cioè per creare, adesso poi non c'è neanche più il confine con la Croazia, per cui noi andiamo dall'Italia, da Trieste, da Roma a Trieste, Trieste, piume sono 72 chilometri, tranquillamente senza più neanche incontrare i dovanieri e le frontiere, è una cosa bellissima e quindi approfittiamo anche di questo per coltivare insieme un futuro non basato sull'odio, sull'odio raziale, sull'odio ideologico, su questi aspetti che hanno creato tutto ciò che è il più grande esodo della storia, il cambiamento dei rapporti tra italiani, sloveni, croati eccetera, quindi approfittiamo di questo per creare nuove condizioni, sentirci tutti, abbiamo ormai una patria che è l'Europa. E poi c'è anche una possibilità, ovvero quella di conoscere attraverso la finzione molto legata alla realtà storica attraverso il romanzo di Diego Zander, L'eredità colpevole, il romanzo pubblicato da Voland, ma prima di salutarci Diego Zander, brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, mi fa compagnia un romanzo di Alexander Emon, che è uno scrittore bosniaco che vive in Canada adesso, scrive in inglese ormai, è stato pubblicato da Crocetti, anche alcuni libri, altri suoi libri sono stati tradotti, pubblicati dai naudi. Quindi è un libro di poesia? No, no, Alexander Emon è un autore, un narratore, ha scritto questo I miei genitori, in cui lui racconta, è un libro bifronte, in quanto c'ha da un lato i miei genitori e racconta lui era piccolo quando è scappato dalla Bosnia in guerra, parlo dell'ultima guerra ovviamente, del 91-95, e quindi sono andati in Canada a vivere. E l'altro è Tutto questo non ti appartiene, ed è sempre di Alexander Emon, l'altra parte del libro, di fronte proprio con due copertine, e racconta invece le sue riflessioni sul mondo nuovo che ha trovato e su che cosa è l'esilio sostanzialmente, racconta come che cos'è la patria, e la patria non è il paese che vogliono i nazionalisti, ma è fatto dei ricordi, degli odori, i suoni, le visioni del mondo che è stato abbandonato, ecco, mentre poi viene trasformato dai nazionalisti in qualcosa di retorico, per cui magari si arriva con quello addirittura alla distruzione dell'altro in qualche modo, in nome di una purezza razziale, qualcosa così, come è capitato purtroppo nella guerra che lui ha vissuto, nella guerra nell'ex Jugoslavia, come Bosnia. E lì ritrovo tante cose di noi esuli, di un'altra pagina di storia, ma di cui sensazioni, impressioni, dolori, sono sostanzialmente distessi. Grazie davvero Diego Zandel per il tempo che ci ha dedicato, grazie davvero per le parole che ci ha fatto ascoltare, buona serata. Grazie a voi.